Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questione, ragazzi sono Mixortime e ragazzi siamo qui, che cazzo era un altro? Sì, quasi a cazzo. Allora ragazzi, vi ho detto che facevamo un vlog sulla spiaggia, c'è tutto là, 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 se voi non vedete ma c'è il mare dietro, non ci sa vedere. Ragazzi sono qui per, cioè vi ho detto che facevo il vlog, qua oggi stavo ancora a fare i vlog. Ragazzi, Ettore, cosa dobbiamo fare? Dici, vuoi? Dico, come no. Eh, come no. Corcomi. Ragazzi, io già mi sono fatto il bagno, cioè, e questo è il risultato. Mantieni, Ettore, mantieni così. Brava, Ettore. E' trago, è molto storto. Che figata. Wihihihi. Cioè, l'hai figata. Che bello ragazzi. Qua è l'hai figata pazzesca perché possiamo fare tutte le sponzate che vogliamo. però di quando per fare queste cose nessuno ci sape allora possiamo fare tutte stronzate vediamo per di qua è bene ragazzi io ci sono venuto un sacco di volte qua perché ho tipo una casa qua e sto cambiando all'incontrario per inquadrarmi perché se no sono bimbi se c'è merda attesa ragazzi poi qua abbiamo la casa ed è una figata perché qua ragazzi poi l'anno scorso c'erano dei cagnolini troppo belli te li ricordi Ettore? cioè io li ho riportato sempre sotto l'ombrellone io e mia sorella, mio nonno, mio padre, mio amico poi il bello è che qua sono venuto da solo cioè sono venuto insieme ai miei nonni è una passata senza ceditori che bello e ragazzi che bello arrivano messaggi chiamata festa da Ciccio Pasticcio ah Ciccio Pasticcio sarebbe ragazzi un amico che io comunque faccio per il canale cioè la seconda è stato Ciccio Pasticcio perché è un nome bello con i marshmallow e ecco tutto no vabbè dovevo fare un'altra cosa dovevo fare un'altra cosa andiamo a prendere i cilateri te no 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 tu tieni sempre i mali panze e ragazzi va bene per oggi questo è tutto ma vi farò vedere un po' quel mare perché così penserete un po' come un minchione qui sta al mare fa il coggione e invece devo schettare caldo ma lo scriverete nei commenti dopo che sto al mare cioè ragazzi voglio dire una cosa mi sono visto il video di Pantellas e vorrei farlo anche io cioè questo video però lo dovrò fare in compagnia di Ciccio verrà pubblicato o sul mio canale o sul suo e ragazzi ragazzi è troppo bello che sono fatti i bagni il problema è che ci stanno alcune meduse e quindi sto nella merda per poco non mi congeva una medusa cioè tipo le meduse vicino a me io ho ornato e me le sono scappate di super vabbè ragazzi per oggi il video può terminare ok ci vediamo alla prossima ciao ciao